E ciao a tutti ragazzi, sono un credo e benvenuti in questo nuovo video. Scusate ragazzi per il loro rumore ma sto in un parco. Ieri comunque ci sono stati i sorteggi per il playoff dell'Italia, cioè per il mondiale. Il nostro girone è composto da Portogallo, Macedonia del Nord e Turchia. Noi la semifianale la giochiamo con la Macedonia mentre il Portogallo con la Turchia quindi quello di cui potrebbe essere anche un vantaggio a nostro favore. Quindi questo qui potrebbe essere appunto un vantaggio. Ragazzi la prima è quella Macedonia del Nord che appunto non va sottovalutata comunque perché comunque ha partecipato all'europeo per la prima volta e per la prima volta della sua storia si è qualificata per il playoff del mondiale. Diciamo facendo soffrire anche la Germania perché comunque mi sembra che un punto l'ha strappato pure con la Germania mi pare non vorrei di cavolate però comunque ragazzi non ho visto così perché comunque sto a lavoro, cioè ero a lavoro adesso sto andando a casa e niente quindi in finale affronteremo una tra Portogallo e Turchia se riusciamo a battere la Macedonia e appunto se andiamo in finale o giocheremo in Turchia o in Portogallo dipende chi passa tra le due e magari questo qui appunto faccia una finale in casa di una delle due squadre potrebbe essere anche uno svantaggio chi dì ragazzi per questo è di tutto lasciatevi che iscrivetevi e attivate la campanella fatemi sapere nei commenti secondo voi riuscirà l'Italia ad andare al mondiale e noi ci vediamo come sempre con un video ciao ragazzi ciao